In questo video torniamo a parlare di Whisper. Si tratta di un progetto molto interessante perché ci permette di convertire la nostra voce in trascrizione testuale o addirittura in tradurre la nostra voce automaticamente in inglese. La cosa interessante di questo progetto è che non dipende da internet e non dipende da un account google. In questo video faremo dei test appunto come utilizzarlo su Android. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare, puoi seguirmi su Telegram, Te Consapevole per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla tecnologia oppure Te Consapevole e Cripto. E se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Ok, allora come dicevo avevo utilizzato questo progetto già altre volte. Su questo video faccio vedere come utilizzarlo sul computer normale e su questo lo utilizzo per creare dei sottotitoli o fare una traduzione di video. Questa volta invece lo utilizzerò su Android. Questo è il codice sorgente ufficiale, c'è un'app demo, ho fatto una piccola modifica e se vi interessa trovate anche la pk in descrizione per poter installare questo progetto e la cosa interessante è che appunto funziona tutto sul telefono senza dipendere da internet oppure da un account google. Bene, allora facciamo una prova di registrazione di un minuto giusto per vedere quanto effettivamente è efficace. Come potete vedere sullo smartphone sono in modalità aereo quindi non dipendo da internet. Qui sotto vedete tutte le estensioni dei processori che sono supportate quindi abbiamo l'accelerazione hardware e questo fa sì che se queste estensioni sono supportate la conversione è molto più veloce. Questo è il modello che andiamo a utilizzare e volevo ancora dire tre tigri contro tre tigri, 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Ok, ci siamo quasi e vediamo cosa succede una volta finita la registrazione. Sono arrivato a un minuto. Ok, ho fatto stop. Adesso quello che succede lui mi ripete quello che ha registrato, tuttavia in parallelo sta anche trascrivendo quindi al termine della trascrizione saremo in grado di fare copia e incolla un po' come se si trattasse di una tastiera virtuale. Ok, sta ancora trascrivendo. Questo è circa un minuto di registrazione. Tra l'altro se lo provate lasciate nei commenti che smartphone avete e quanto tempo impiega a trascrivere un minuto di parlato. L'altra cosa che vi volevo dire è che se scaricate la pk potrebbe essere che ve lo scarica come punto zip. In realtà si tratta di una pk a tutti gli effetti quindi potete rinominarlo e installarlo. Ok, nel mio caso per tradurre un minuto ci ha impiegato circa 36 secondi e vediamo adesso la qualità. Possiamo anche selezionarlo e quindi poi farei il copia e incolla. Allora, una prova di registrazione per vedere quanto è efficace. Quindi ha messo il punto. Ok, quindi aereo qua me l'ho sbagliato. Qui sotto vedete tutte le estensioni, mi ha messo tensioni supportate. Quindi abbiamo un'accelerazione. Questo è il modello che vediamo utilizzare. Volevo ancora dire 3 tigri contro 3 tigri. Ok, entrarono 30 tutti, 33. Ok, qua mi ha sbagliato trotterellando e anche l'ultima parte. Ok, di solito traduce un po' meglio. Però appunto come dicevo il valore di questa cosa è che mette la punteggiatura funziona online, funziona non online e non dipende da un account Google. Ok, questo è quello che vi voglio far vedere. Scrivetemi nei commenti se utilizzerete questa cosa al posto della tastiera fisica o se già utilizzate altre cose per questo tipo di trascrizioni. Questo è tutto. Come sempre lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao a tutti!